Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi si torna a parlare di prodotti della Games Workshop e ancora una volta ringrazio il nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola per averci offerto gran parte del materiale che vedete qui davanti, poi ovviamente vi dirò alla fine il link e tutto quanto come andarlo ad acquistare dal nostro negozio sponsor e si torna a parlare di prodotti Games Workshop e in questo caso il video di oggi è dedicato alla Black Library. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. La Black Library di Warhammer, sia Warhammer 40.000 che Warhammer Fantasy e anche il nuovo Age of Sigmar è un'entità a parte creata nel corso di molti anni, che ormai sul mercato veramente, veramente da tanto tempo si parla anche di una ventina d'anni laddove tutta quanta la lore, come un po' viene definita ora, e tutta quanta la storia dei giochi principali della GV che sono magari Necromunda, Kill Team, Warhammer, Warhammer 40.000, Warhammer Vecchio Mondo, quindi Warhammer Fantasy, Warhammer Fantasy, Age of Sigmar e quant'altro, viene buttata su carta per creare dei romanzi. E la Black Library ha degli scrittori famosissimi, ma non soltanto si parla di romanzi, ora infatti vi farò vedere, come Dan Abnett, ad esempio, che ha scritto, io penso avrà scritto fra poco, fra romanzi brevi e romanzi veri e proprio una cinquantina, sia su Warhammer Fantasy che su Age of Sigmar, che sul 40.000, si trovano veramente tantissimi romanzi da leggere che adesso in Italia sta portando alla Nere Edizioni, che ancora una volta ringrazio per il materiale fornito e ringrazio di esistere. Detto onestamente perché io gli ultimi 20 romanzi della Black Library me li sono letti in inglese, con un po' di fatica, anche perché non sono né professore né madrelingua, quindi leggere glielo letti però l'avrei letti molto meglio nella mia lingua in italiano. Quindi le ringrazio veramente di cuore per quello che stanno facendo, per me a livello di impresa editoriale è una delle migliori, veramente porta la bandiera italiana, non l'ho mai nascosto, di quelle che abbiamo, perché hanno portato, come vedete qui, il primo romanzo di Indomitus, quindi la nuova scatola di Warhammer 40.000, che già vi ci ho fatto il video, la crociata di Robot Gilliman, nel primarca degli Ultramarine, direttamente in Indomitus contro i Necron. Poi di qua abbiamo Primo e Unico, che si parla ovviamente degli spettri di Gaunt, quindi il primo e unico Tanit, Guardia Imperiale Astra Militarium, e il nuovo che è qui, la devastazione di Baal, si parla dei figli del grande primarca Sanguinius, ovviamente si parla di Blood Angels, in una battaglia contro la flotta Leviathan, anzi non erro, devo ancora iniziare a leggere, ma più o meno la storia la conosciamo, in cui si videro combattere, non soltanto sul loro pianeta natale, che è il pianeta Baal, ma si videro combattere i Blood Angels, uno dei capitoli più famosi e più belli, più guerra fondai da prima linea, un po' come i lupi siderali degli Space Marine, dell'Adeptus Astartes, contro una delle più grandi flotte tiranide mai viste. Ma, come vi dicevo, la Black Library non parla soltanto di romanzi, non sono soltanto romanzi e lore, ma ci sono anche delle miniature dedicate, che la giocola di libreria SEM la ci ha fatta avere, come in questo caso, che sono Fafnir, uno dei campioni, no, scusate, capitano dei Magli Imperiali, che tra l'altro i Magli Imperiali, chi mi conosce lo sa, sono il mio secondo capitolo preferito degli Space Marine, il primo sono gli Ultramarine e il secondo i Magli Imperiali, che onesto e sincero mi piacquero inizialmente, non tanto perché sono le guardie scelte dell'Imperatore, questo è veramente l'esercito di pretoriani dell'Imperatore, però più che altro il colore giallo, a me questo colore, a me il giallo e l'arancione industriale piace, e quindi li vidi a colpo d'occhio, gialli, calabrone, che non piacevano a nessuno, a me piacciono da morire. E poi abbiamo Dominion Zephon, quest'altro, che è un, dovrebbe essere un Blood Angel, infatti, con zainetta a reazione, il jetpack e la spada da corpo a corpo. Sono due miniature della Black Library, come vedete, dell'eresia di Horus, quindi si parla, vi ricordate, lo scontro che ci fu fra Horus e l'Imperatore, e infatti dopo quello scontro Horus venne sconfitto e l'Imperatore rimase praticamente paralizzato sul suo trono, da cui venne salvato soltanto il cervello, che poi è quello che dà la potenza e la possanza all'Astronomican, tramite cui gli psionici dell'Impero riescono a seguire, a viaggiare in distanze veramente siderali, interstellari, anche comunemente chiamate Immaterium o Warp. E sono delle miniature veramente spettacolari, perché fanno parte direttamente della Black Library. Quindi queste sono miniature della Black Library, fatte, e ne abbiamo diverse altre che vi ho fatto vedere, venendo fuori dai romanzi, appunto, scritti da tanti autori come Dan Abnett. Questi sono personaggi che trovate direttamente in questi racconti, che poi vengono tradotti in maniera abbastanza regolare. Ormai si parla veramente di un romanzo ogni mese e mezzo o due, tirato fuori dalla nera, e quello che sta uscendo in questi giorni, quando vedete questo video, hanno da poco fatto la devastazione di Bal. Dopo un mese o un mese e mezzo, ne sta uscendo un altro, sul inquisitore Eisenhorn, che sapete è uno dei miei personaggi preferiti, e c'ho anche la miniatura della Black Library, e stanno andando avanti, a parte Xeno, con tantissime altre cose. Ora, se volete fare un ordine per i prossimi 20 ordini che la Gioco Libreria Semola riceverà, ora vi lascio il link e tutto, per i prossimi 20 ordini riceverete in omaggio il braccialetto, commemorativo della Black Library. In più, se acquisterete almeno un romanzo della Black Library, riceverete questo librettino free, che oltretutto è bellino e da collezione, e Black Library Celebration del 2022, dove dentro ci sono dei racconti brevi, come vedete qui, sempre scritti dai migliori autori, ed è anche bellino e da collezione, perché è un pezzo veramente da collezione della GV, per i prossimi 20 ordini che verranno ricevuti, e acquistando almeno un romanzo della Black Library. Quindi, quelli che troverete poi tutti quanti sul sito, tanto sul sito della Gioco Libreria Semola trovate anche nella sezione direttamente Black Library per ordinare. E come vedete, la roba che sta uscendo è tantissima, sia a livello di miniature, non tanto commemorative, quante della Black Library. Questi sono personaggi che trovate dentro i romanzi, e secondo me, ragazzi, è la figata stratosferica, perché magari uno legge un romanzo, no? E dice, però, Dei, mi sono appassionato talmente tanto a quel personaggio lì dentro. Prendo una miniatura della GV di Orhammer 40.000, la converto per rifare quel personaggio, e gli creo le caratteristiche. No, ce l'avete. Ci pensa già la GV a farlo, dei personaggi più belli che trovate in questi romanzi. E quindi, tra l'altro, lui, se per forza mi dovrò fare un esercito dei magli imperiali, e lui ce lo mette subito al comando, che poi è bello da corpo a corpo, e c'ha due accette, e mi piacerebbe anche leggere un po' da dove viene. Quindi, come vedete, il materiale sia di lore che di miniature è veramente vastissimo, e la GV non conosce crisi, non conosce limiti, e sponono sempre roba spettacolare. Ogni volta, si pensa sempre che umanamente ci sia un limite, la GV riesce sempre a sfondare anche i loro record, i loro limiti. Se lo volete ordinare, prima tutta questa roba, primo link in descrizione, e in soveimpressioni, dalla giocolibreria Semola, al miglior prezzo sul mercato, e ricordatevi sempre di usare il codice sconto discount Coridan 7, come vedete a nota, tutto scritto maiuscolo, per avere un 7% di sconto su qualsiasi acquisto, e per spese superiore ai 79 euro, spese postali gratuite in tutta Europa, in 48 ore, ordinate anche fuori dall'Italia, in 24, massimo 48 ore, ce l'avete a casa. Ricordatevi il codice discount, e come vedete, c'è veramente un mondo di roba, veramente tantissima, di altissima qualità, e spettacolare. Grazie ancora una volta, alla giocolibreria Semola, e grazie ancora una volta, dalla Nere Edizioni, per i romanzi forniti. Ciao ragazzi, alla prossima!